Amici di ViaggiInBici.com, ciao! Ci troviamo dove? A Nucca? Eghisheim. Eghisheim. Siamo insieme a Glenford e non siamo a Bollywood ma in Alsapia. Siamo partiti da Thun e arriveremo a... Marlenheim. Marlenheim, nomi difficilmente pronunciabili, ma vicino a Strasburgo. Mercorreremo ben 170 km per questi paesini meravigliosi. Ciao a tutti da ViaggiInBici.com